ciao amici del convento siamo qua lei la bella bionda che si chiama sabrina ciao sabrina benvenuta al convento di lonato allora sabrina con chi ti sposi samuele samuele subito per te subito per te un pregio e un difetto di samuele allora un pregio non lo trovo un difetto che è disordinato è disordinato guardiamo se ti ricordi il giorno ufficiale del fidanzamento 28 settembre anno 2009 volete se sei pronta che su quest'altra domanda puoi vincere un free drink una consumazione se indovini il significato di questa parola ok devi dirmi il significato della parola calabrosa calabrosa una noiosa rompiballe sbagliato calabrosa significa quando te vedi le ragni a tele di ghiaccio labrina sui cancelli delle case sui muri in inverno quella è la calabrosa allora sei pronta a festeggiare il tuo dia nubilato si vai ragazze fate un grande saluto agli amici del commento che sono a casa ciao a tutti i E lì, 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 lì!